ho prendo sotto non ce l'ho fatta è tremato, è tremato, sta arrivando, dai manca poco, non c'entra il ritmino, oh mio dio, che giornata ragazzi, non ci credo, anche questo pesce mostruoso, anche questo pesce mostruoso, pesce mostruoso, ancora non è per prendervi in giro, ma questo segna 3 kg, 3 kg ragazzi, roba la pazza, cari amici, questo pesce segna 3 kg, probabilmente 2-300 grammi sono di guadino, non del peso del guadino, ma dell'acqua della rete, consideriamo comunque un pesce di 2,7 kg, impressionante, lo rilasciamo, come sempre facciamo, vi faccio ci salutiamo, guadagno. Abbiamo preso tra barbie e cavetano i pesci veramente grossi, addirittura l'ultimo cavetano segnava 3 kg da bilancio, adesso sparo le ultime fiondate e poi dopo vado a casa perché sono molto sazio oggi la giornata. Noi ci vediamo nel prossimo video, io vi saluto e a presto, tigri.